Andiamo a giocare oggi l'ultimo viaggio della Transylvania, il capitolo finale della serie di Halloween su World of Warships. Cosa molto importante, tutte le navi che avrete avranno, selezionando questa modalità, una mimetica particolare, d'accordo? Come potete osservare, lo stile è sempre lo stesso. Cos'è che cambia? Qui c'è modificatore, ogni tipologia di nave, ogni classe di nave avrà dei bonus. Io in questa circostanza utilizzerò il Pommern con questi bonus permanenti. Cosa molto importante, il Pommern l'ho dovuto in qualche modo rivedere per attrezzarlo per l'operazione, d'accordo? Quindi il consumabile della nave è modificata a 1, tempo d'azione del consumabile più 10% lo metto proprio per avere più durata dei consumabili. Se giocassi in random ovviamente sarebbe completamente diverso. Per quanto riguarda poi le secondarie abbiamo i 105 e i 150 che penetrano rispettivamente 32 e 47, il capitano Lutens davvero fondamentale. Il capitano è settato in questo modo, ripeto, esclusivamente per andare a giocare l'operazione della Transylvania. Ve lo faccio vedere rapidamente, poi tutta questa colonna, scarica di adrenalina e ancora esperto delle riparazioni d'emergenza. Il Pommern penso che sia la nave migliore per affrontare questa situazione, però ripeto, potete anche provare nuove tattiche e combinazioni con altre navi e altre nazioni. Mi raccomando ragazzi, se questi contenuti, World Warships, ma anche War Thunder e Lister sono di vostro interesse, come sempre iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Se volete provare World Warships completamente gratuito, link in descrizione con alcuni vantaggi. Andiamo a giocare l'ultimo viaggio della Transylvania. Via! Siamo pronti a scortare la Transylvania al portale. D'accordo? Importantissimo. Assicurati che la Transylvania non perda più del 50% della sua integrità. Raccoglie i frammenti della Grande Torre per aumentare la resistenza e i danni della Transylvania. La Grande Torre è esattamente, insomma, quel coso che è la Grande Torre. Perfetto. Allora, io spero che abbiate eseguito nel tempo tutte le operazioni della Transylvania, che sono state davvero molto belle, mi sono piaciute tantissimo. E questo capitolo finale, ovviamente, è simile agli altri, concettualmente parlando. Però sicuramente, insomma, i nemici... C'è qualcosina di diverso, ma non troppo, alla fin fine. Mettiamola così. Il fatto è che questa modalità, per quanto mi riguarda, io la giocherei sempre. Cioè, proprio se la mettete fissa, io sto buttato qua dentro H24. Ok? Altro che scorta il dirigibile, d'accordo. Ma che scorta il dirigibile? Mettetemi sta modalità sempre disponibile, che è una cosa ben diversa. Allora, iniziamo a sparare con le secondarie. Ovviamente, nella prima fase ci saranno dei nemici vagamente facili da fronteggiare. Poi, piano piano, le cose si complicheranno sempre di più. Sentite, io a questo punto andrei sullo Scarab. Spariamo. Le secondarie, ovviamente, cercate di far sparare sia il lato destro che il lato sinistro, mettendovi al centro. Però, ovviamente, lì potrebbero arrivare dei siduri. Però, insomma, dovete decidere un attimo quanto danno fare. Io punto a fare circa 200.000 danni. Una cosa semplice, insomma, nulla di complicato. Vediamo se ce la facciamo. Allora. Continuiamo. Qui abbiamo preso, esatto, il primo coso è andato. Fatemi fare una kill, insomma. Grazie, molto gentili. Andiamo sull'Octopus. Incrociatore. Ovviamente, ognuna di queste navi fa riferimento alle navi che esistono, cioè, nel gioco, d'accordo. Quindi non sono inventate di sana pianta, per capirci. Bello il rimbalzo, mi piace. Perfetto. Ah, io, se perdi punti vita pronti via, non arriviamo neanche a metà strada, perché ce n'è tanta di strada da fare, d'accordo. Quindi, cercate di preservare i vostri, i vostri punti via. Fra, oh, è pronti. Prendete 800.000 siluri, li hai lanciati tre ore fa. Ben fatto, complimenti. Ragazzi, ma anche qui, voglio dire, contro il botto siamo. Non è che siamo contro... Non è nulla di complicato. Fintanto rimaniamo uniti e ci diamo un manforte. No, però, neanche ripara questo. Non te la fanno godere neanche questa modalità, capito? Non te la fanno... Non te la può giocare, non te la può giocare. Allora, continuiamo a sparare. Abbiamo le AP. Va bene. Qualcosa chi lo prende? Alla in there? Ci pensi tu? Purtroppo ho ancora le AP, però va bene. Complimenti. Una cittadina da 3008? Interessante. Molto interessante, Fra. Continuiamo. Facciamo questo movimento. Ovviamente non avete 406. Ci rifacciamo bastare. Si spera. Transilvania dove sta? Ok, bravi. Scortate la Transilvania. Fate un ottimo lavoro di... Di scorta. Che non è addirigibile. Fortunatamente. Miseria. Guarda, gli incubi, quella modalità. Gli incubi. Gli incubi. Andiamo sullo Scarab. Senti, io te l'attivo. Non vorrei vedere cose strane tipo siluri. Tre rimbalzi e tre eccessive. Interessante. Molto interessante. Andiamo sull'Octopus. Non lo vedo bene. Potremmo anche provare a torpare la Leviathan. O il Leviathan. Insomma, la nave. Tac, due siluri te li lancio. Mi ha fatto male, miseria. Fortunatamente abbiamo molti punti vita. Tac. Perfetto. E si gode! Allora. La riparazione... Allora, la R ce la teniamo. Arrivano gli aerei. Attenzione. Non puoi farmi male, vero? Che rallentatore sono quei colpi? Ma che è? Non ho capito questa. Vabbè, sarebbero arrivati i siluri. Però dobbiamo far vedere che spariamo male. Recuperiamo tutto. Andiamo dall'altra parte. Vorrei far notare una cosa. Il cerchio... Cioè, si restringe. Quindi non potrete andare poi troppo in avanti. Capito? Perché altrimenti se è uscito fuori alla melma. Subirete dei danni. E questo voi non lo volete. Quindi in definitiva è la Transilvania quella che... Ci dà copertura. Perché più avanza la Transilvania più il cerchio segue appunto. Ci siamo capiti. Una cosa importante. Se giocate in Plotone ovviamente mettete diversi cacciator pedinieri. D'accordo? In modo tale da dare fumo alla Transilvania. In modo tale da preservare la sua visibilità. E quindi le navi avversari spareranno a voi. Altrimenti come completate assicurare il 50%. D'accordo? Una cosa molto importante. Importantissima. Non è che lanciano dei siluri quando meno me la... Ragazzi. Ma è immortali sti cose. Doppio incendi. Ovvio. Sono resistenti sti cosi tra l'altro. Eccoli i siluri. Tre... Tre... Grazie. No. Pensavo che avesse assorbito in parte i siluri. Ok. Tre incendi. Tre incendi. Ma come si fa? Ma che sta sforzando? Il microfono... Sì. Ogni tanto mi viene questo dubbio se il microfono lo stia registrando. Meno... Allora. Eh... Sono stati affondati. What? Abbiamo perso... Ok. Ah no. Hanno perso. E a sto punto la R ce la conserviamo. Tanto l'incendio sta per essere domato. Mi serve assolutamente un po' di vita. Ottimo. Cosa poi bellissima del nostro capitano è che appunto, avendo il capitano speciale, quando spottiamo le navi che compagliono, noi recuperiamo vita. Fantastico, vero? E io andrei prima sull'incrociatore. La butto lì. Va bene. Non ho... Non ho silu... Picchiano forte, eh? Raga, prima la nave è più debole e poi la nave è più forte a casa mia, eh? Perché sennò la debole continua a sparare, capito? Cioè, la forte non la distruggi subito. Mi seguite nel ragionamento? E così da tutte le panni, in tutti i giochi del mondo, voglio dire. Perché quello forte ci mette tanto a morire. Ma ce la facciamo a fare sta cosa? Si capisce nulla. Ma non è che mi lancia i siluri sto cosa, no? È morto? Sì! Doppio colpo. No! Sto uscendo dalla... No, 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 no. Virata secca. Aiutami tu! Non voglio andare fuori dalla melma. No! Suona la cosa lì! Mille punti vita ogni volta! Ma signori, è uno scherzo! Mille punti vita al secco... Se il 50% della nave sta dentro, non subirete danni. Misera, ma qua abbiamo perso 14, 15 mila... Va bene, respiriamo. Recupera vita immediatamente. Se spottiamo una nave... Recuperiamo ulteriore vita. Dove sta la Transilvania? Che ha attivato la... No, che ha attivato... Non ha attivato niente. Sembrava quel coso del... No? Allora... Aerei. Vamos! Si recupera vita. Difficile sta modalità comunque al netto di tutto, eh? Io ho perso molta vita. Poi vabbè, quello lì... La corazzata l'abbiamo persa quasi subito. Quindi è una cosa molto negativa. Andiamo sullo Scarab. Prima, il discorso che ho fatto... Rimane. Tra l'altro una cittadella anche... Cioè, vuol dire, neanche facciamo... Allende, ti devi spostare. Tutti nel fumo! Vamos! Scarab è ancora vivo. Qualcosa mi dice che arriveranno da destra. La grande Gorgone, boys! Dobbiamo distruggerla se vogliamo ottenere... Il massimo. Qua stanno... Sto virando... Sto cercando di gestire... I cannoni e tutto. Ragazzi, un cacciatore peniere. Dove sta il nostro supporto? Sì, vabbè, buonanotte. Finché arrivano quei siluri. Ragazzi, servono... Cacciatore peniere, però non ha i siluri. Tra l'altro. La fortuna... Non ha senso portare il Friesland. Scusatemi, eh. Cioè... Che come fai ad avere il bonus... Dei cacciatore penieri... Che lanciano i siluri... Se tu non lanci i siluri. È tutto fantastico. Pensavo che andasse giù prima... Sto coso, eh. Ah! Il Varg. Varg ci stiamo... Ci sta dando molto fastidio qui. E no, perché volevo fare anche l'obiettivo... Distruggendo la grande Gorgone. Stiamo sempre giocando con una nave in meno, eh. Spostati! Che non sparano le secondarie. Che botta che ha preso... La Transilvania. Mi fate passare davanti... Perché sicuramente spawnerà qualcos'altro. Ecco, appunto. Rasputin. Eccola là. La grande Gorgone! Ma quanto c'ha di... Ragazzi, dobbiamo andare avanti... Perché tra poco la... La Rasputin incrocia letteralmente la Transilvania. Ma che è sta cosa? Sono due Rasputin. Eh, vabbè. Buongiorno. Buonanotte. Buonanotte, sogni d'oro. Ma come si fa? Transilvania, miseria! Vai indietro! Non posso fare molto. È quasi arrivata la Transilvania. Ce la faremo mai il 50% di vita? Secondo me non ce la faremo neanche a farla arrivare a questo punto. Gli facciamo il solletico. Gli facciamo il solletico. Meno male che le secondarie stanno facendo qualcosa. VAMOS! Torpolo, 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 torpolo! Ragazzi, dovete stare davanti. Del grosso, devi stare davanti alla Transilvania. Che scorta è? Se no, scusami, eh. C'è la scorta di Paperino. Aii! No, non la perde il 50%. Prenditela con me! Prenditela con me! Va bene. Abbiamo i siluidi di destra. Veloce! Mi fai il solletico, Fra? Penso che dopo questo non ci sia più nessuno. Spero. Guarda a me. Bra-bra-bra-bravo. Lato. Tac. Va bene. Grazie. Molto gentile. Sì! Come on! Selezione naturale. Ce l'abbiamo fatta. E salva la Transilvania. Abbiamo vinto. Siamo fortissimi. Otto navi. 899 chi... 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 Colpi d'arma secondaria. 284.000 danni. La nave è sopravvissuta. Ce la facciamo. 50% l'incarico secondario ottenuto. Come on! Che legnata che mi ha dato però alla fine. Sì, guarda qua pure l'animazione La Transilvania Ma La Transilvania è stata distrutta Ma mi prendi in giro Cioè noi ci siamo fatti un mazzo così E poi la Transilvania viene fatta esplodere In maniera ingolore Ma che significa? Comunque 5 stelle, 5 tutto Abbiamo ottenuto selezione naturale Che in realtà avevamo già ottenuto Dalle altre operazioni Stella marina Va bene E anche ultimo viaggio della Transilvania Ottieni una vittoria nell'operazione Può essere ottenuto una sola volta Quindi è un qualcosa che vi rimane come ricordo Va bene Abbiamo ottenuto 796.000 crediti Tanti ma non tantissimi Mi verrebbe da dire Punteggio squadra Abbiamo fatto 1873 Volevate arrivare i primi Rapporto Si ringrazia Lajova per il contributo essenziale Rapporto dettagliato Abbiamo fatto male fondamentalmente Abbiamo colpito tutte le navi del gioco Armamento secondario Abbiamo fatto un danno di 98.000 Con Allora dunque Incendi Solo 17.000 da incendi Quindi la tattica degli incendi Potrebbe funzionare Fino a un certo punto E poi crediti Levate le varie spese Con un account normale Senza premium Ho postato a casa 435.000 crediti Al netto dei moltiplicatori Che ho messo blu Ok? Importante questa cosa In realtà il discorso Del guadagno dei crediti Sì Sono cifre interessanti Però per nulla Paragonabili Alle cifre che si guadagnavano Negli anni precedenti D'accordo Dove dovevi raccogliere la melma E portarla in un determinato punto Affrontando anche Avversari Reali Quindi nel corso del tempo Le cose sono cambiate In maniera significativa Per quanto riguarda Il discorso Operazione Di Halloween O comunque Eventi Legati ad Halloween E Questo ultimo viaggio Della Transilvania Non ha nulla di particolare Mi aspettavo Chissà quale effetto Grafico Quale nemico Indistruttibile Insuperabile Impareggiabile Invece Risulta essere Abbastanza semplice Anche Ovviamente Senza Un plotone C'è da dire Che ovviamente Ci sono diverse modalità Di difficoltà Che sono uscite Negli anni passati Però attualmente Qui non le vedo E quindi Non posso giocare La modalità Più difficile Eventualmente Dovesse Eserci qualche novità Comunque vi terrei Aggiornati Modalità Anche per esercitarsi Un pochino Se volete Nel tiro Nell'evitare i siluri Per capire Come posizionare la nave Insomma Secondo me Fa bene giocare Questa modalità Per diverse ragioni Ragioni Anche ovviamente Il lato economico Ragazzi Vieno terminato Io come sempre Vi ringrazio per like I commenti Le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Qua nel prossimo Che play Ciao Ciao